Salve a tutti, sono Daniele Manfredini e con questa breve presentazione video vorrei discutere con voi il recente documento internazionale sul bruxismo, l'International Consensus che ha visto 14 esperti provenienti da tutto il mondo riunirsi a San Francisco e contribuire a partire dal 2017 con la General Session dello IADR, un Closed Meeting che è stato molto acceso e dibattuto, alla stesura di questo documento che sta suscitando parecchio interesse e anche parecchie critiche. In qualità di autore corresponsabile del documento ritengo sia giunto il momento di sottolineare che estrapolare delle singole frasi o sostenere di non essere d'accordo su certi singoli aspetti sia uno sport un pochino troppo facile da praticare. Nella stanza quando ci siamo riuniti c'erano 14 dei principali esperti, tra l'altro di estrazione professionale differente, odontoiatri, esperti di dolore orofacciale, psicologi, medici del sonno e la base di ragionamento secondo la quale si deve arrivare a produrre un documento consenso è che questo sia inevitabilmente la sintesi e il compromesso tra le posizioni di partenza di ciascuno dei protagonisti, tutti esperti ricercatori e clinici. L'altro aspetto da sottolineare è che il Consensus Paper alla fine aveva quattro obiettivi ben precisi, e quindi di questo dobbiamo discutere. Non è un'idea di proporre una nuova classificazione di bruxismo o di coprire tutto lo scibile attuale sul bruxismo. Lo scopo ben preciso era di espandere ulteriormente le definizioni di bruxismo del sonno e della veglia che avevamo proposto nel 2013 e possibilmente fornendone due separate. Di approfondire l'aspetto che era emerso negli anni precedenti sul ruolo del bruxismo come un qualcosa che può anche non essere correlato a conseguenze cliniche negative e che quindi può essere definito una sorta di comportamento o attività muscolare. Il terzo scopo era quello di rivalutare il grading system che era stato suggerito e proposto nel 2013 ma che non voleva assolutamente essere un sistema diagnostico classificativo e infine anche lo scopo era quello di proporre una agenda basata sulle possibili manchevolezze nelle conoscenze attuali attuali al fine di disegnare ricerche future. Partiamo quindi dalla prima di queste tematiche che è la definizione di bruxismo. Abbiamo prodotto due definizioni separate per il bruxismo del sonno e della veglia. Il bruxismo del sonno è definito come un'attività dei muscoli masticatori durante il sonno che è caratterizzata come ritmica cioè può essere fasica di breve durata o non ritmica cioè può essere tonica di durata maggiore e non è un disordine nel movimento o un disordine del sonno in individui che sono altrimenti sani. Il bruxismo della veglia è parimenti un'attività dei muscoli masticatori durante la veglia che può essere caratterizzata dal contatto dentale ripetitivo o sostenuto ma anche dal mantenimento della mandibola in posizione fissa con la muscolatura tesa. Questo è il significato del termine bracing o anche dal muovere la mandibola avanti e indietro come se si dovessero digrignare i denti ma senza effettivo contatto dentale. Questo è il significato del termine trusting. Così come per lo sleep bruxism anche il bruxismo della veglia non è una patologia del movimento in individui altrimenti sani. Le parole chiave che emergono o perlomeno che a nostro parere valgono la pena di essere sottolineate in queste due definizioni sono sicuramente il fatto che stiamo parlando di un'attività dei muscoli masticatori quindi il bruxismo viene contestualizzato come un fenomeno muscolare quindi non come l'atto di digrignare i denti o non come un specifico evento che sia correlato a una serie di fenomeni neurofisiologici. E in più l'altro aspetto è che il bruxismo non è di per sé una patologia. Ora riconosco che questa frase che termina in otherwise healthy individuals cioè soggetti altrimenti sani soprattutto a livello internazionale è stata a volte misinterpretata e devo anche dirvi questa è una confidenza che sono io il primo ad aver avuto dei dubbi sulla reale necessità di inserire questa specifica ma è proprio per questo che bisogna dire due parole su cosa su quale fosse la nostra intenzione e l'intenzione era molto semplice cioè il bruxismo di per sé non è la patologia ma è un segno di qualcosa. questa definizione sia per la veglia che per il sonno ci porta quindi in una nuova sfera riguardante il costrutto di bruxismo quindi noi abbiamo bisogno di visualizzare il bruxismo come se fosse una tra virgolette per così dire attività muscolare dei muscoli masticatori che non sia necessariamente legata a tutti i fenomeni di arousal neurovegetativo che si ritenevano in passato necessario necessari per la presenza di e per la categorizzazione di un evento muscolare come bruxismo e soprattutto questa attività può essere anche riferita come un comportamento durante la veglia quindi la persona che tiene le mascelle serrate durante uno sforzo di concentrazione o a causa di una stato ansioso di una personalità particolarmente emotiva durante le ore della veglia è una persona che in quel momento sta compiendo un'attività di bruxismo della veglia in forma di bracing l'altro aspetto che emerge da questa definizione è che come ho già detto poc'anzi il bruxismo è il segno di qualcosa dobbiamo cominciare quindi da un lato a vedere il bruxismo come l'attività muscolare dall'altro a considerarlo alla stregua che ne so della temperatura corporea cioè di un qualcosa che può essere un segno di importanza per riconoscere una condizione sottostante che ne determina l'aumento o la diminuzione quindi in quest'ottica è stato scelto il termine behavior che non vuol dire che il bruxismo sia sempre fisiologico ma semplicemente che bisogna contestualizzare l'uso del termine riguardando il concetto di attività muscolare e questo ci porta quindi al secondo aspetto che è quello della discussione appunto del ruolo del bruxismo in termini di correlati clinici ci possono essere situazioni in cui il bruxismo inteso appunto come aumentata attività muscolare può essere associato a una o più conseguenze cliniche negative pensate ad esempio al paziente che digrigna molto i denti e avrà una situazione di usura dentale oppure al paziente che tiene i muscoli in tensione per ore giorni mesi anni la relazione con affaticamento muscolare dolore muscolare dolore all'articolazione temporomandibolare può essere tutta lì da vedere ma in alcune situazioni il bruxismo può in via per ora quasi più teorica che altro ma ci sono delle piccole evidenze che questo possa accadere rappresentare addirittura un fattore protettivo cioè è stato visto che ad esempio il bruxismo in alcuni pazienti rappresenta l'evento terminale di arousal respiratori e quindi anche se la nostra famosa ipotesi che nel 2015 su sleep and briefing pubblicammo in termini di possibile ruolo protettivo del bruxismo nei confronti ad esempio delle apnee notturne in questo momento è stata un attimino rivisitata per la complessità dei fenomeni neurologici che la sottendono che rendono impossibile trovare una relazione a uno a uno sicuramente il bruxismo talvolta può essere anche un segno che non necessariamente sia associato a conseguenze negative il terzo aspetto quindi è come si valuta questo bruxismo nel momento in cui noi abbiamo deciso di considerare il bruxismo un'attività muscolare un comportamento muscolare e un comportamento anche dell'individuo talvolta inconscio è chiaro che questa idea del bruxismo come segno di un qualcosa di sottostante fa sì che l'utilizzo della parola diagnosi come ancora troppo spesso personalmente vedo utilizzare o meglio vedo utilizzare e personalmente ritengo non appropriato è appunto fuorviante perché sarebbe come sostenere l'idea che noi dobbiamo fare una diagnosi di febbre noi possiamo misurare la febbre e valutarne le cause ma sicuramente non possiamo pensare di diagnosticare appunto il bruxismo sulla base di un sistema stackable vuol dire impilabile no cioè quindi che si sale da un livello all'altro con un approccio sì o no e io veramente sono letteralmente ancora imbarazzato dal fatto che a seguito del consensus paper del 2013 e anche di questo del 2018 sto ricevendo mail da ricercatori che mi dicono ma sai guarda io nel mio studio ho chiesto al paziente se la moglie gli dice che di grini e denti la notte ma ho anche guardato se ha dei segni di usura in bocca però non ho chiesto se ha il dolore al mattino questo come va classificato come bruxismo è un bruxismo possibile è un bruxismo probabile è un bruxismo definito questo era il retaggio della interpretazione errata dei consensus papers come se avessero proposto un sistema classificativo l'idea invece di dire che il bruxismo possibile sia basato sul self report probabile sulla valutazione clinica ma che per essere un bruxismo certo attuale vada misurato in realtà non vuole essere un grading diagnostico classificativo standardizzato ma semplicemente un suggerimento per far capire che molto spesso la letteratura clinica in termini di approccio alla valutazione del bruxismo è molto superficiale ma nel consensus paper c'è scritto chiaro e tondo che può essere possibile approcciarsi alla valutazione del bruxismo sia in maniera non strumentale che strumentale e anzi vi anticipo lo vedremo tra poco nel research agenda le i nostri sforzi le direttive sfuture saranno quelle di cercare di predisporre un sistema valutativo che sia omnicomprensivo di certo dal punto di vista valutativo continuare a basare la cosiddetta diagnosi sulla presenza o assenza di bruxismo sull'uso di cut off se hai più di x eventi di bruxismo durante il sonno sei bruxista severo altrimenti no è un controsenso clinico non c'è tempo questo è un argomento per corsi più approfonditi ma sappiate che questo è un ragionamento circolare cioè i criteri polisonnografici di valutazione bruxismo erano semplicemente dei suggerimenti per uno screening in ambito di ricerca e vedere adesso che in questi famigerati centri evidence based dentisti dove l'unica cosa che si fa è revisionare la letteratura scritta da altri si prendano addirittura a spunto questi criteri per metanalizzare la letteratura del bruxismo e valutare l'efficacia del trattamento è un controsenso è un grosso errore più che un controsenso perché dobbiamo sapere che oggi la definizione di bruxismo non comprende più solamente i picchi di attività polisonografica fasici ma anche e oserei dire dal punto di vista della rilevanza clinica soprattutto i periodi di prolungata attività isometrica dei muscoli che dalla polisonografia vengono scartati quindi se noi ci limitiamo a fare la conta degli episodi fasici a meno che non ci imbattiamo in un paziente che sia un bruxista fasico super severo e che quindi abbia una facilmente ipotizzabile relazione con l'usura dentale tutte le altre possibili correlazioni cliniche vengono a mancare ma anche nel caso dell'usura dentale tenete presente che oggi la sfida il challenge è andare a cercare le cause di questo bruxismo che abbiamo visto possono essere molteplici andiamo a cercarli negli arousal respiratori andiamo a cercarli nel reflusso gastroesofageo andiamo a cercarli negli aspetti psichici andiamo a cercarli nell'utilizzo di farmaci di certo il bruxismo in quanto attività dei muscoli masticatori dovrebbe essere valutata nel suo continuo cioè in termini di ammontare di quantificazione della attività elettromiografica stessa o di report dell'esperienza durante il giorno durante la veglia e in quest'ultimo filone si inseriscono tutte le interessantissime ricerche che riguardano ad esempio gli approcci ecologici allo studio del bruxismo della veglia infine ultimo scopo era quello di delineare una research agenda e è abbastanza ormai intuitivo che i nostri goals per il futuro saranno quelli di creare un sistema multidimensionale che sia onnicomprensivo nella valutazione del bruxismo cioè che includa un inquadramento dell'eziologia delle diverse possibili forme di bruxismo una valutazione dell'attività di bruxismo in sé che può essere basata sulle informazioni recuperate a livello di ciò che ci riferisce il soggetto su informazioni tratte dall'esame clinico e su informazioni che derivano dall'utilizzo delle strumentazioni di cui ad esempio l'elettromiografia diventerà progressivamente lo standard in quanto è lo standard per la misurazione del lavoro muscolare ma la polisonografia resterà l'inevitabile riferimento per quanto riguarda la possibilità di studiare i correlati neurofisiologici del bruxismo del sonno tutto questo per arrivare poi a cercare di mettere insieme e possibilmente analizzare mediante sistematiche di intelligenza artificiale i dati così raccolti con la presenza di conseguenze cliniche quindi le conclusioni devono essere rapportate a quelli che erano gli obiettivi perché è abbastanza intuitivo che in un paper del genere qualcosa manchi ma intanto cominciamo a gettare delle basi concreti per parlare tutti la stessa lingua e allora conclusione numero uno visto che il primo punto era cercare di chiarire le definizioni del 2013 direi che sicuramente oggi non c'è dubbio che sia il bruxismo del sonno che il bruxismo della veglia abbiano una loro dignità separata spesso quasi in maniera provocatoria dico cominciamo a usare il plurale bruxismi perché sono attività muscolari non solo differenti per estrinsecazione durante il ritmo circadiano ma anche differenti per eziologia e per tipologia di attività muscolare la seconda conclusione che riguardava invece l'aspetto di considerare il bruxismo in termini di comportamento di behavior quindi piuttosto che di disorder direi che è stata molto ben sviscerata nel consensus paper in quanto c'è tutta una parte che spiega cosa si intende per behavior quindi estrapolare l'abstrat e dire ok da oggi il bruxismo è una cosa che non è patologica è un grosso errore perché il bruxismo deve come abbiamo provato a spiegare anche in questo breve video essere visto come un qualcosa che ci faccia da campanello d'allarme per la presenza di possibili condizioni sottostanti come un qualcosa che può rappresentare un fattore di rischio per conseguenze cliniche di interesse odontoiatrico dolore muscoli masticatori usura dentale faccette che si rompono viti di ritenzione implantoprotesica che si allentano ma che non deve necessariamente essere considerato un qualcosa di patologico e soprattutto men che meno essere considerato la patologia e questo chiaramente ha un impatto importantissimo anche per quanto riguarda la interpretazione di tanti articoli tanti corsi tante affermazioni quando si sente parlare di trattamento del bruxismo ecco amici da ora in avanti quando leggete trattamento del bruxismo per favore ricordatevi di me che come grillo parlante vi dico che state andando ad ascoltare una conferenza sul trattamento della febbre la febbre si può trattare nel senso che si può gestire sintomatologicamente si può prevenire ma se si vuole bisogna cercare di eliminarne le cause stesso approccio dovrebbe essere utilizzato per il bruxismo troppo spesso si confonde la gestione delle conseguenze cliniche con il trattamento delle cause di bruxismo cioè del perché un paziente ha tanta attività muscolare durante il sonno non è un caso ad esempio che nei pazienti che vengono ad esempio trattati con apparecchi di avanzamento mandibolare per le apnee il bruxismo si riduca non è un caso ad esempio che nei pazienti che vengono trattati con terapia comportamentale per il bruxismo della veglia e che avevano dolore il dolore si riduca perché si riduce il bruxismo quindi tutti questi aspetti devono essere presi in considerazione e saranno in agenda per l'elaborazione futura di un sistema valutativo come vi dicevo precedentemente molto dettagliato e omnicomprensivo sicuramente ad oggi terzo punto conclusivo noi possiamo dire che non c'è nulla di sbagliato nell'utilizzare un self report per la valutazione bruxismo perché non è detto che gli approcci strumentali visto che ad oggi purtroppo questi sono basati solo sulla conta degli episodi ci dicano una verità assoluta quindi l'ideale è integrare le informazioni e infine proprio perché c'è necessità di integrare le informazioni e proprio perché i criteri sul bruxismo del sonno attualmente disponibili sono degli screening basati sul numero di episodi fasici per ora di sonno continuare ad utilizzarli per valutare la presenza di bruxismo severo sperando che questo ci possa dare una correlazione clinica ad esempio con la presenza di dolore è un controsenso biologico perché noi sappiamo che l'attività di tipo fasico che è quella per inteneci brevissima che ci porta magari a digrignare i denti e quindi semmai ad avere usura dentale difficilmente ha potenziale lesivo per affaticare i muscoli masticatori e sovraccaricare quindi se noi andiamo a cercare una correlazione tra quel tanto bruxismo di tipo fasico che possiamo misurare con la polistenografia e la presenza di dolore temporomandibolare è abbastanza intuitivo dal punto di vista biologico che troviamo dei dati molto confusi quindi cari amici spero di esservi in qualche modo stato utile di avervi aiutati a chiarire alcuni dei dubbi che sicuramente leggendo il consensus paper senza essere a conoscenza del dietro le quinte vi possono essere venuti e vi rimando a tutte le attività del nostro gruppo di studio italiano disordini cranio mandibolari per ulteriori approfondimenti un abbraccio a tutti and kiss